Prego, ecco la chiave della camera. Buon soggiorno. Ssh, ho detto che puoi stare con me soltanto se fai il bravo. Signore, il gruppo della famiglia Oss è qui per il check-in. Sì, magnifico, li stavo aspettando. Oh no, cuccià! Mi serve una vacanza. L'anno prossimo. Preparatevi. A una vacanza mostruosa. Una crociera. Sorpresa! Oh no, 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 no! Papà! Ok, sorridete. Guarda, Drac, ci sono un sacco di cose qui. La piscina olimpionica. Buffet mangia a volontà. Spà extranusso! Sì, proprio incredibile. È come un hotel sopra l'acqua. Chi è quello? Sì. Ok, papà, grazie. Oh no, Blobby ora vomita. Papa!